Inter Cagliari si gioca al centro sportivo Giacinto Facchetti, partita per gli under 17 serie A e B contro Isolani allenati da Mister Cossu, mentre i ragazzi di Gianmario Corti cercano una vittoria per confermarsi. Al primo posto Inter che prova ad attaccare subito con un pallone lungo. Poletto manca l'intervento di testa, non lo manca Vitali, pallone che poi diventa buono per Kierin, il suo destro è centrale, para in due tempi l'estremo difensore delle Cagliari, Bizzi ancora Inter che attacca dalla corsia di destra, Van Hoyssen, apre per Emmers sovrapposizione di Vaglietti, cross dentro Vitali prima e Kierin poi non riescono a trovare la deviazione decisiva, ancora Inter che attacca sempre utilizzando le fasce, cercato il pallone dentro, ancora una volta verso Kierin, ma arriva la chiusura da parte di Sarrizu che devia e manda sul fondo, ancora Inter che attacca nel primo tempo nel tentativo di superare il muro rosso-blu, Emmers va alla cross, respinge il portiere precipenza, Lampis ad allontanare Valietti cerca il lancio dall'altra parte per Emmers, sponda di testa, Vitali si gira il pallone, in qualche modo arriva Rover, para, ancora una volta Bizzi, tiro centrale dopo un pallone rimasto all'interno dell'area di rigore, Cagliari che ci prova nel secondo tempo con Bilea sul cambio di gioco da parte di Porchedu, il mancino del numero 16 però termina ampiamente sopra la traversa, Inter che in tutti i modi cerca il vantaggio anche dalla distanza, il tiro di Vanhoisen rimbalza un paio di volte prima di terminare sul fondo, Cagliari che invece ci prova da fermo con questo lancio lungo, prova ad uscire in presa alta, Tintori disturbato, arriva poi il fischio dell'arbitro per carica sul portiere Nerazzurro, dopo tanti tentativi l'Inter però riesce a sbloccare la gara con Valietti che va al cross, gestisce male la difesa del Cagliari, pallone che arriva dalle parti di Rover, controllo e tiro che va a spegnersi alle spalle di Bizzi, Inter 1 Cagliari 0 con il gol di Rover, bravo a farsi trovare al posto giusto, al momento giusto, bravo anche poi a calciare molto angolato, resta fermo il portiere Bizzi, forse non vede partire il pallone, fatto sa che l'Inter trova il gol del vantaggio grazie al destro dal limite di rigore di Rover, trovato l'1-0 l'Inter riesce a sfondare con Vitali sempre sul pressing da parte di Rover, Vitali entra in area, salta un uomo, poi tocco sotto per battere il portiere Isolano, bravo il numero 9 con il Mancino a trovare un pallonetto per trovare il gol del 2-0 tutta un'altra partita non appena la squadra di Gianmario Corti sblocca la gara, l'Inter riesce a dilagare, a trovare anche il gol del 3-0, prima però è Emers che va al cross basso, Sarrizzo in diagonale va a mettere il pallone fuori e solo l'azione precedente al gol del 3-0 su lancio lungo, Merola è entrato dalla panchina, controlla, fa una finta, poi arriva sul sinistro, riesce a parare bene Bizzi, sulla respinta arriva Vai che mince un rimpallo e poi mette dentro il gol del 3-0, Inter che dopo aver mancato il gol nel primo tempo lo trova nel secondo, riuscendo a sfondare per bene tre volte con tre marcatori diversi, prima Rover poi Vitali, chiude la partita, Vai qua, bravo, è deciso ad andare sul pallone, vince il rimpallo e mette dentro il gol del 3-0 che regala tre punti importantissimi alla formazione di Gianmario Corti, finisce 3-0 la gara contro il Cagliari.